Sono 11 i casi di dengue accertati nelle Marche, 10 a Fano e uno a San Costanzo, due i casi sospetti a Bellocchi. Tra i contagiati una persona che presenta una storia di viaggio in area endemica, un'altra a Fano, è una mamma in stato di gravidanza, ora ricoverata al Salesi di Ancona e rappresenta il primo caso autortono accertato a Centinarola di Fano. Si tratta di una malattia conosciuta da oltre due secoli e particolarmente presente durante e dopo la stagione delle piogge nelle zone tropicali e subtropicali. La trasmissione del virus è unicamente vettoriale e quindi per contrarlo è necessario essere punti da una zanzara infetta. La dengue è una malattia infettiva virale che viene trasmessa all'uomo dalla puntura di una zanzara. In Italia da circa gli anni 90 noi abbiamo la zanzara Edes albobictus che può rappresentare un vettore del virus della dengue. Non è un vettore efficace come la zanzara Edes egipti che magari è presente in altre aree tropicali ma è comunque un vettore che può essere in grado di trasmettere il virus della dengue. Quindi fondamentalmente una volta che una persona rientra nel territorio nazionale dopo un viaggio in fase viremica, cioè col virus che si moltiplica nel sangue e viene punto da questa zanzara tigre, la zanzara dopo un periodo di incubazione intrinseco diviene contagiosa e pungendo un'altra persona può trasmettere il virus. I sintomi della dengue sono quelli aspecifici di una normale malattia febbrile da lieve a moderata. La sintomatologia è abbastanza aspecifica però ci sono degli elementi che possono orientare la diagnosi. Quindi una malattia febbrile tipicamente associata a cefalea importante, tipico il dolore retrooculare, possono comparire artralgie e mialgie e può comparire anche un rash cutaneo. Dal punto di vista clinico, dal 40 all'80% delle infezioni da dengue sono asintomatiche. Solo in una minima percentuale di casi la malattia può avere un decorso grave e potrebbe verificarsi in soggetti anziani. Soltanto in una minima percentuale di casi la malattia può avere un decorso grave e questo si verifica soprattutto nei soggetti anziani o che hanno delle comorbidità. Un fattore di rischio importante per la malattia grave è invece rappresentato da coloro che contraggono una seconda infezione, cioè si sono già infettati precedentemente e poi sviluppano e contraggono una nuova infezione. In questo caso il rischio di forme più gravi è maggiore.